Musica Le marche nella morsa del gelo e della neve, scuole chiuse in alcuni comuni per motivi di sicurezza, qualche spolverata nel Pesarese. Incidenti in A14, il ministro Salvini incontra il presidente della regione Francesco Acquaroli. L'obiettivo è trovare soluzioni per ridurre l'impatto dei cantieri e aumentare i lavori notturni. L'aeroporto di Fanno, l'onorevole Baldelli annuncia ENA che è pronta di investire oltre 3 milioni di euro. Si attende alla risoluzione del passaggio di proprietà dei terreni. Un ciclabile in via Dante Ligieri è partita la sperimentazione via 35 posti auto. Sul dato mare rimarranno i parcheggi a spina di pesce. Il nuovo ciclo di conferenze all'Università dei Saperi di Fanno. Tre gli incontri sui temi spirituali e filosofici trattati dal punto di vista femminile. Dommaso Berloni è il neopresidente della Proloco di Serungarina, eletto il nuovo direttivo già al lavoro sugli eventi 2023. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come da previsione, nelle scorse ore anche la provincia di Pesero Urbino è stata interessata da deboli nevicate, in particolare nell'entroterra con accumuli maggiori in alcune aree montane. In altre zone della regione invece la neve e il ghiaccio sulle strade hanno indotto i sindaci a emanare ordinanze per chiudere le scuole, come ad Amendola, nel Fermano, a Offida, in provincia di Ascoli Piceno, a Camerino, Tolentino e in vari comuni a ridosso dell'Appennino. Nella giornata di domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature minime in lieve diminuzione e massime in lieve aumento. Ora torniamo a parlare degli incidenti mortali lungo l'A14, perché questa mattina il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi. Abbiamo convenuto, ha riferito Acquaroli, nella necessità di diminuire l'impatto dei cantieri, cercando di evitare la congestione sulla rete, anche aumentando, dove possibile, le lavorazioni notturne e differendo gli interventi. Inoltre è stato istituito un coordinamento, prestituto dal MIT, con l'obiettivo di pianificare i cantieri insieme alle regioni per discutere anche dell'eventuale rimodulazione delle opere e poi il loro impatto. Passiamo all'aeroporto di Fano, che potrebbe essere valorizzato grazie ad Enac, che è pronta ad investire su questa importante infrastruttura. Dopo il sopralluogo nello scalo fanese, noi abbiamo fatto il punto con l'Onorevole Antonio Baldelli. Un'infrastruttura importante che deve trasformarsi da nicchia per amatori a vere e proprie risorsa sociale ed economica per Fano e le Marche, ne è convinto l'Onorevole di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo all'aeroporto Enzo e Valtero Miccioli, quale componente della nona commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera. Con lui i direttori generale e regionale Enac, Alessio Quaranta e Silvia Ceccarelli, il sindaco di Fano Massimo Seri, il presidente di Fano Unfortune Massimo Ruggeri, il capitano dei carabinieri Maximiliano Papale e l'amministratore di Igo Lavie Cion Academy Davide Cecchini. L'investimento riguarda principalmente la pista di atterraggio per migliorare le prestazioni e la sicurezza, ma non sono esclusi interventi sulla palazzina e sugli hangar. È arrivato il tempo di dare nuova vita all'aeroporto, ma come ha detto lei, Onorevole, è necessario un gioco di squadra? Sì, sicuramente. Per i nostri territori è giunto il momento di lavorare finalmente in squadra, di fare rete. E così stiamo cercando di fare dalla Camera dei Deputati, quindi dal Parlamento, nel caso dell'aeroporto di Fano, fino al Comune di Fano, magari passando tramite Enac e la Regione Marche. Ci sono però delle questioni da risolvere, come ad esempio quelle che riguardano i terreni aeroportuali? Sì, proprio in questi giorni ho organizzato un incontro e un sopralluogo con il direttore generale di Enac, ossia l'Ariente Nazionale per l'Aviazione Civile, affinché potesse conoscere e toccare con mano le potenzialità dell'aeroporto della terza città delle Marche. Il direttore Enac si è subito dimostrato interessato e pronto a divertire alcuni milioni di euro su questa infrastruttura. Ma secondo lei ha delle reali potenzialità? Beh, l'aeroporto di Fano, anche a detta dello stesso direttore Enac, è uno degli aeroporti minori più interessanti d'Italia. Ha una posizione strategica, ossia posizionato al centro della penisola, quindi con un raggio d'azione molto molto interessante. Si trova a pochi passi dall'uscita autostradale, a fianco di un'importante arteria come la Fano Grosseto, come la strada statale 3, la Flaminia, e a ridosso della statale Adriatica. Quindi è un sito dalle grandi potenzialità e quindi dobbiamo riuscire a trasformare questa infrastruttura da sito di interesse per gli amanti del volo, invece a volano per l'economia e il turismo della città di Fano, del territorio della provincia di Pesorbino e dell'intera regione. Per l'investimento quali saranno i prossimi passi? L'Enac è pronta a investire importanti risorse sull'aeroporto, previa però la risoluzione di una problematica legata alla proprietà di alcune particelle di terreno dell'aeroportuale, le quali sono rimaste ancora in capo al comune anziché al demanio e quindi fin quando rimarrà questa situazione Enac non potrà investire i fondi. Nell'incontro che ho agevolato in questi giorni, il sindaco di Fano ha preso l'impegno di risolvere questa questione ormai annosa nei prossimi mesi, quindi spero Simona di tornare di fronte a lei insieme al direttore Enac e al sindaco Seri per appunto parlare di investimenti concreti sulla città di Fano. Invece in via Dante Ligheria Fano oggi è partita la sperimentazione in vista della nuova pista ciclabile. Sentiamo allora tutti i dettagli nell'intervista che abbiamo realizzato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori. La sperimentazione di via Dante Ligheri sarà sino a fine aprile. Si tratta di un intervento in un tratto che era privo di un marciapiede dedicato. Quindi con questa nuova segnaletica, che è una segnaletica naturalmente provvisoria, andiamo a lasciare libero tutto quello che è il parcheggio lato mare, quindi le persone potranno tranquillamente parcheggiare, mentre andremo a precludere quelli che sono i parcheggi lato monte. All'incirca sono 35 posti auto. Allora naturalmente proprio sulla parte diciamo lato monte andremo a fare, abbiamo già realizzato una segnaletica a terra per inserire una pista ciclabile e quindi per la messa in sicurezza di tutto quello che è la mobilità dolce e quindi di ciclisti e pedoni, perché ad oggi questo purtroppo non succedeva e nello stesso tempo togliendo tutti i parcheggi a fianco alla pista ciclabile ci sarà anche proprio un marciapiede, quindi uno spazio diciamo, proprio dove le persone potranno camminare in sicurezza. Questa ricordo che è un intervento appunto fortemente sollecitato dalla prefettura e dai residenti, è un intervento dove non siamo potuti intervenire prima proprio perché all'interno diciamo di quell'area c'era un lavoro di sottoservizio da parte di ASET, oggi finalmente è concluso, tanto che a fine lavori, diciamo a fine sperimentazione andremo proprio a realizzare una nuova asfaltatura. E' chiaro è che questi 35 parcheggi che andranno a gravare naturalmente sulla cittadinanza adesso fortunatamente è un periodo non estivo e quindi ce lo possiamo permettere di sperimentare. Poi dovremo prevedere, che sono già inseriti all'interno del piano regolatore, delle aree per contenere questi spazi. Per aiutare gli imprenditori e gli esercenti che sono appunto in questo tratto, interessati da questo tratto, abbiamo in questo momento, e metteremo a disposizione delle aree di carico-scarico nella parte del lato mare. Ci spostiamo a Pesaro dove è partita una raccolta firme per chiedere il limite dei 30 km orari nelle strade comunali più frequentate da pedoni e ciclisti. E' stata definita una battaglia di civiltà per garantire una maggior sicurezza. E' partita da un gruppo di pesaresi l'idea di lanciare una campagna di comunicazione per chiedere all'amministrazione comunale di ridurre la velocità sulle strade cittadine. Città 30 è una città che sceglie di moderare la velocità a favore di tutti i cittadini, moderare la velocità ai 30 km all'ora, ovviamente tranne negli assi principali, nelle strade principali di scorrimento. E' una misura che è già stata introdotta da diverse città europee negli anni e che è già in realtà consolidata in alcuni stati. Addirittura la Spagna, ad esempio, l'ha introdotta nel 2021 su tutto il territorio nazionale. Ed è una città a beneficio di tutti, non è una misura a favore dei ciclisti o una battaglia ambientalista. La Spagna è una città che, grazie a questo intervento, si pone l'obiettivo di diminuire gli incidenti e le conseguenze fatali o comunque gravi degli incidenti, di recuperare il ruolo sociale della strada, che è lo spazio pubblico più importante all'interno di una città. Da un punto di vista della mobilità, è un intervento che favorisce la mobilità sostenibile con tutti gli impatti che ha la mobilità sostenibile, quindi una riduzione dell'inquinamento, una riduzione delle emissioni. La campagna Pesaro 30, poi aggiunto il portavoce, è affiliata a quella di Bologna che nel 2021 ha portato un nuovo sindaco ad approvarla. L'obiettivo, ha proseguito, è quello di sensibilizzare i cittadini per portarli a cambiare mentalità. Facciamo partire oggi una raccolta firme. Abbiamo diversi punti in città che hanno già dato la disponibilità per arrivare a un numero consistente di firme, adesso non ci poniamo obiettivi di quante saranno, però un numero consistente tale da far vedere all'amministrazione che c'è consenso, che c'è volontà per arrivare alla città 30. Abbiamo un sito che si chiama www.pesero30.org All'interno del sito ci sono tutte le informazioni su cos'è una città 30, su quali sono i benefici di una città 30, ci si può firmare direttamente sul sito oppure sono riportati tutti i punti firma dislocati nei vari quartieri della città. Sulle bollette di luce e gas, la provincia di Pesero Urbino è la più cara della regione. Quanto emerge dall'analisi sulla spesa delle famiglie marchigiane pubblicata dal sito facile.it, una fonte ulteriore che conferma il dato diffuso da feder consumatori sulla spesa per il gas della famiglia Tipo nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 e che è stimata a 1.769 euro, pari al più 36% rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente. La RERA, l'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, con un recente comunicato ha reso noto che in base all'andamento del mercato all'ingrosso nel mese di gennaio 2023 si registra una diminuzione di circa il 34% rispetto al mese di dicembre 2022. La famiglia Tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui. Bambini al freddo e in pieno inverno nella palestra della scuola Cucurano, di Cucurano inaugurata pochi mesi fa, lo denunciano i consiglieri della Lega Fano che in una nota hanno aggiunto il comune rimane come sempre immobile nonostante il problema del riscaldamento fosse noto da tempo. Una totale assenza di attenzioni, interesse e operatività che lascia senza parole un atteggiamento ingiustificabile hanno concluso da parte della giunta serie. E critiche al sindaco Massimo Serie arrivano anche da Fratelli d'Italia Fano, in questo caso per la Nazionale Cantanti che sta cercando di aprire una sede nel centro Italia. Aveva individuato la zona della trave dove c'è un campo da calcio e lì avrebbe investito per un campo sintetico, ha spiegato Fratelli d'Italia, riqualificando tutti gli spogliatoi oltre ad altri interventi per un totale di più di un milione di euro da dividere con il comune. Visto che per gran parte dell'anno il tutto rimarrebbe a disposizione della città e della prima squadra di calcio cittadina che avrebbe potuto essere coinvolta nel progetto, sembra decisamente una cosa molto buona. Il sindaco però come sempre ha perso tempo, si legge nella nota, e parrebbe che la Nazionale Cantanti abbia virato dirottando il proprio interesse verso un'altra città, Matelica. Poteva essere un volano, ha aggiunto il partito, per tante altre attività connesse, ma ancora una volta decidiamo di non decidere e andiamo avanti, intanto i treni passano e non sale nessuno, tanto meno Fano. Cambiamo argomento, si intitola Dio e Donna, il nuovo ciclo di incontri organizzato dall'Università dei Saperi con il contributo del Comune di Fano. Sabato il primo appuntamento alla Memo. Da sabato 11 febbraio partiranno una serie di cicli di conferenze sul tema Dio e Donna organizzate dall'Università dei Saperi di Fano, di che cosa si tratta e dove si svolgeranno i tre appuntamenti. Il programma di quest'anno dell'Università dei Saperi si è sviluppato intorno al principio dal Notus al Novum, che è considerato un principio basilare da parte dei grandi maestri classici. E noi, convinti della sua validità, come un filo di Arianna, questo principio ci ha guidato nella scelta delle proposte culturali e abbiamo cercato di declinarlo in alcuni significativi ambiti del mondo del sapere, in questo caso in quello della teologia. Si tratta di un ciclo di tre incontri, di tre conferenze sui temi spirituali, ecclesiastici, teologici e filosofici, ma trattati dal punto di vista femminile. Attraverso il pensiero di filosofe e di teologhe in un dialogo aperto tra mondi diversi, quello cattolico, quello valdese e quello musulmano. Il primo incontro è sabato prossimo alle ore 16 e si svolgeranno tutti presso la sala ipogea della Memo. Le teologhe interessate sono tre. La prima è Selene Zorzi, che è una teologa cattolica, tratterà il tema Il Genere di Dio, che è impegnato sulle differenze fra la teologia trattata dagli uomini rispetto a quella trattata dalle donne. Il secondo incontro sarà tenuto da Letizia Tomassone, che è una pastora valdese, docente di studi femministi e di genere. L'ultimo incontro, Sharzad Umand Zadeh, che è una teologa musulmana, che è nata e si è formata in Iran e si trova da anni in Italia, dove è docente di studi islamici alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Tratterà invece il tema Il Femminile nel Corano, che riteniamo sia quanto mai attuale. A dialogare con le tre relatrici, il professor Samuele Giombi, dirigente scolastico e docente di storia religiosa. L'appuntamento è stato presentato in comune che sostiene l'evento. Ci è sembrato importante questa proposta da parte dell'Università dei Saperi nell'anno, nella sua programma accademico di quest'anno, perché intreccia perfettamente quelle che sono le attività e la ricerca del comune di Fano e dell'assessorato nello specifico, che in questi anni si è prodigato a creare anche un dialogo tra le diverse culture e confessioni, parlando anche di religione, approfondendo e cercando anche sempre di dare un'interpretazione più autentica dei testi e meno sereotipata. La Proloco di Serrungarina ha un nuovo direttivo. Noi abbiamo intervistato il presidente Tommaso Berloni, che insieme alla nuova squadra è già al lavoro sugli eventi del 2023 e sulle collaborazioni con le varie associazioni del territorio. Si sono svolte le elezioni, dunque il nuovo direttivo della Proloco tra conferme e novità. Certamente, giovedì abbiamo svolto le elezioni e diciamo con la mia figura continuiamo il progetto che aveva iniziato otto anni fa Gioacchino e il suo team. Abbiamo ovviamente inserito qualcosa di nuovo, perché poi la pandemia a un certo punto ha ridotto ai minimi storici la Proloco di Serrungarina e quindi ripartiamo da qualche camminata, ripartiamo da qualche evento culturale. Ovviamente la festa della Perangelica non può mancare. Vediamo se riusciamo a inserire qualche altra festa. Quindi insomma vi siete già messi al lavoro? Sì, 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 certamente. Il tesseramento invece è già partito? Il tesseramento partirà a breve, abbiamo fatto già domanda per le tessere e a fine marzo avremo la cena sociale dove tutti i soci saranno invitati e anche i nuovi soci saranno invitati, perché abbiamo bisogno di forza lavoro, dobbiamo crescere, se vogliamo fare i bei eventi serve diversa gente. Diverse dunque le iniziative in programma, ma anche un territorio bello ampio? Certo, il territorio è molto ampio, infatti non spaziamo solo su Serrungarina, abbiamo Tavernelle, abbiamo Barnia, abbiamo Pozzuolo e in ogni borgo pensiamo di fare qualcosa di importante nell'anno. Mi ricordo che domenica sera alle ore 21 saremo in diretta con il programma In viaggio col Vuloni, insieme agli ospiti in studio la conduttrice Maria Elena Delbianco commenterà la seconda domenica di Carnevale. Lunedì sera invece torna primo cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, noi ci rivediamo domani sera alle 20.30, domani mattina invece alle 7, come sempre la rassegna stampa. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.